Il 24 di giugno di 1910 l'Alfa, l'anonima Lombarda fabbrica di automobili, fu fuori in Milano. Oggi l'Alfa Romeo è celebrato il suo anniversario 110. Benvenuti all'Alfa Romeo in Arese, proprio a Milano. Il museo collega i caratteristiche, i motori e i artefatti, anche le storie delle persone, dei progetti che hanno lasciato le marci su questi 110 anni di storia. Una storia che comincia con il primo veicolo, ma anche con la storia dell'Alfa Romeo. La legenda è stata che un nuovo designer, chiamato Romano Cattaneo, ha aspettato per la caratteristica una mattina, e ha notato i due simboli di Milano, la croce della comunità, e la bicione, la santa della famiglia di Visconti. Questi due simboli sono combinati per creare l'Alfa Romeo, che ha rimanuto in più non cambiato fino ad oggi, ma è stato anche il mirro della trasformazione delle compagnie. anno dopo anno, piccoli e grandi cambiamenti erano fatte fino a che finalmente veniva a vita in sua formazione. Prima di accettare l'esercito del museo, notevole che una seczione è dedicata alla produzione dell'Aronautica. Da Angelo dei Bimbi, un angelo di bimbi, ai grandi avanti, prodotti durante la seconda guerra mondiale. Il museo è diventato in tre seczioni. Timeline, Bellezza e Speed. La seczione del timeline racconta la storia dell'Alfa Romeo come company, le plantazioni di produzione, le persone che contribuono per farlo grande. Ma, prima di tutto, le caratteristiche. Prima di tutto, il 24th power, il primo automobilio prodotto dal caratteristico nel 1910, e poi, durante tutti i periodi precedenti, fino al presente. 110 anni di storia hanno passato, anni in cui il mondo ha cambiato, le caratteristiche hanno cambiato, ma l'Alfa Romeo ha sempre stato capito di evolvere e rinvento di rinvento, per rimanere nella scuola. La seconda seczione è in titolo Bellezza, l'unica vero che non è mai tradizionato. Bellezza è la trasformazione delle forme, è il design di caratteristico, ma è anche la bellezza del mondo, visto da dietro la ruota di un'Alfa Romeo, e anche la ruota di un'Alfa Romeo nella società. Le anni 50 e le anni 60 marrono il periodo in cui l'Alfa Romeo ha iniziato in advertising, cinema e la vita quotidiana. ma la giulietta, la ragazza italiana, e la giulia, designata dal vento, erano anche vittime di un'immagine industriale. Le planti erano produttività a piena capacità, e l'Alfa è venuta a rinvento. La terza e più passionata del museo è dedicata alla velocità. Questa seczione descrive le rinventi, i rinventi, i rinventi, ma anche la performance, il rinvento, e la eccellenza tecnologica che distingue l'Alfa Romeo. La nostra giornata comincia con una seczione dedicata alle grandi rinventi in between le due guerra mondiali, dove i rinventi erano considerati eroi eroi. Dopo la guerra mondiali, il mondo è completamente nuovo. Anche, a Portello, l'Alfa Romeo del futuro era disegnato, le alfette, con Nino Farina e Fangio vengono le due primi semplici del mondo della serie F1. Questi restano due delle vittorie più importanti dell'Alfa Romeo della famiglia. Però, ciò che rende questa brand veramente legenda sono non solo le vittorie famose ma anche gli impossibili che trattano la passione pubblica. Il rinvento è parte del DNA del Alfa Romeo di un periodo, caro o categoria. Sportness e speed sono i fondamentali dell'Alfa Romeo. Con più di 170 veicoli su display permanente il museo è casa del resto della collezione. 200 veicoli, motori, modelli, equipamenti e le famose storie dell'Alfa Romeo. Questo è un'area che i fanci possono visitare un'attività ma è anche un'area operativa del museo dove i veicoli sono riusciti e mantengono la vita alle attività di museo Il centro del museo e del Alfa Romeo è il centro di documentazione. Trattando più di 6.000 metri, questo archivio storico colla documenti e fotografi e altri materiali che raccontano le famose storie di questa marca. Il centro di documentazione è a servizio di scuole, studenti e collettori. Questo, il museo, la collezione, l'archivio è dove il nostro avvento per i 110 anni della storia di Alfa Romeo inizia.